Continua la movida, perdonatemi la parola, del messaggero marittimo, dopo Barcellona, dopo Madrid, dopo Lisbona, dopo Bruxelles, siamo in partenza, vedete, per Atene. Voi dite cosa ci fate all'Atene, spiegaci un po'. C'è la 22esima Euromed Convention del gruppo Grimaldi, che si tiene proprio nel capoluogo ellenico. È una manifestazione che si tiene per anni, dove il gruppo Grimaldi invita tutti i collaboratori, oltre agli impiegati, i collaboratori, i clienti, gli operatori, tutti quelli che operano con l'importante gruppo partenopeo. Domani effettueremo delle interviste, dove ci saranno tre sessioni di lavoro, poi nel pomeriggio si terrà una conferenza stampa, si pensa da Manuel Grimaldi, dal capo storico del gruppo napoletano, e quindi ci saranno poi altre informazioni che noi metteremo sul nostro sito www.messaggeromarittimo.it. Interviste a largo spettro, che voi potete naturalmente vedere, controllare, collegarvi al nostro quotidiano online. Ecco, questo praticamente è una nuova tappa per il messaggero marittimo, ce ne sono altre in ottobre, non all'estero, ma soltanto in Italia, ma molto importanti. Quindi, una cosa che io, come sempre, vi chiedo, intanto siamo qui all'aeroporto di Fiumicino, augurateci buon viaggio e poi anche buon lavoro, perché non guasta, ve lo assicuro io. Vi saluto a Vezio Benetti, del messaggero marittimo, ma ormai mi conoscete.